L'argomento che mi ha affidato è molto puntuale, molto concreto, perché parte da un documento ormai che è la scheda e da quello derivano poi tante riflessioni non solo sui metodi di valutazione. Naturalmente la scheda serve, specialmente quella per il momento finale del curriculum scolastico dei ragazzi, serve per valutare gli elaborati della maturità, quella che si chiamava maturità e tutto sommato sarebbe bene di chiamarla ancora tale, almeno come auspicio di traguardo per i ragazzi. Ma non è soltanto uno strumento di valutazione, qui sono cose che nel mondo scolastico sono state dibattute da decenni, non è una novità il tema della scheda nella scuola. Però più ci si riflette, più ci si torna sopra, più ci si accorge che c'è tanto da lavorare per elaborare modelli appropriati, da affinare via via, ma anche per introdurre nella scuola, e proprio attraverso coloro che mi sono più convinti, introdurre dei criteri più oggettivi, non solo, ripeto, di valutazione, ma di costruzione del curriculum, perché la scheda si lega a tutta una pianificazione. Quindi un tema molto concreto, ma anche molto, molto vasto. Il titolo dell'incontro è, appunto, competenza linguistica di uscita e criteri di valutazione. Capovolgo l'ordine dell'esposizione, anche se poi quello che forse ci interessa di più, dal momento che non sono un docimologo, non sono una didatta specificamente, Sì, sono quattro anni che, come Presidente dell'Accademia della Crusca e poi membro dell'Accademia della Crusca, collaboro con l'Invalsi. Questa scheda, bella o brutta che sia, è nata molto in questo ambiente, quindi siete venuti alle fonti. Però noi siamo molto attenti e preoccupati a quello che deve esserci prima, perché si possa poi applicare una scheda, questa o altra che sia. Però è bene riflettere, dicevo prima, sulla funzione della scheda nella scuola. E su questo tema sarete voi a dire, nel dibattito che seguirà dopo, negli interventi, quanto riuscite ad applicare uno strumento del genere, quali difficoltà incontrate, quali resistenze ci sono nella scuola, verso che cosa? Verso uno strumento tecnico che deve servire di bussola. Ripensando agli anni ormai passati, in cui la scheda era un'innovazione che dava fastidio a molti insegnanti, ci si rende conto che abbiamo dovuto conquistare delle posizioni nuove, fare dei passi avanti e capire che non tutto può essere affidato al sapere del professore, alla sensibilità, all'attenzione nel momento di valutare, a tutte queste cose. No, occorre uno strumento del genere. Ma qui sarò io molto interessato a sapere che uso se ne fa, non solo nei momenti di verifica, ma come commissari d'esame, commissari delle maturità, semmai viene utilizzato uno strumento del genere nelle commissioni. Il momento degli esami di Stato, eccetera, è talmente particolare, confuso, convulso, che non credo le valutazioni li si svolgano molto tecnicamente e molto serenamente. Ma durante l'anno, durante gli anni, riuscite a fare uso di una scheda. E quindi, poi, che cosa dite di questo modello di scheda che forse conoscevate anche prima, perché ormai tutto circola in rete e in ogni caso è stata inserita nel fascicolo che vi abbiamo presentato. E le mie considerazioni su questo oggetto, proprio maturate attraverso i quattro anni di preparazione, prima e in seconda edizione, sono queste. Il controllo organizzato dall'invalsi, con una certa procedura, che forse alcuni di voi conoscono, ma poi ve la illustro anch'io, che vuole verificare, controllare nel senso di riscontrare i criteri delle commissioni con i criteri a posteriori di riscontro fatti dopo, hanno dimostrato che c'è un abisso, forse, di differenza di criteri di valutazione tra quello che si fa nelle commissioni d'esame e quello che si fa dopo a titolo di indagine.